qui ma è senza dare disturbo c'è gente che lavora c'è l'armiere che lavora cioè poi devo fare gli intervisti sono già tutto bagnato così non c'è ma va più che dunque sempre uso privato ok se no non non c'è non c'è la mia mail c'è cd di Genova cd di Padova ho mangiato ah è mangiato a posto adesso mettilo come è scritto ok ragazzi guardiamo poi guardiamo Passi! Passi! Capito! Passi! Tissus! Passi! 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 Grazie. 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 Grazie.